Furti e rapine a Mogliano, ma anche le passeggiate notturne dei cittadini di Zerman e di rischi di qualche testa calda. Al Comitato Ordine e Sicurezza, tenutosi stamane in prefettura, si è parlato anche di questo. Nessuna dichiarazione ufficiale dalla prefetta all'uscita a fare il punto è il sindaco Davide Bortolato. Continua la presenza sul territorio delle forze dell'ordine in maniera importante, in maniera massiccia e questo insomma sta portando i frutti. I dati non sono dissimili da quelli degli anni passati, continua il sindaco che invita i cittadini a non perdere la calma e ad avere fiducia nelle istituzioni. Tra istituzioni si sta lavorando in maniera importante, il territorio è controllato, certo è che Mogliano è un comune molto vasto, abbiamo quasi 200 km di strade comunali quindi non si riesce ad avere copertura totale. I cittadini, io sono stato ieri sera a Zermani in piazza, sono stato proprio lì a portare questo messaggio, insomma a rassicurare della presenza sia del comune sia delle istituzioni. È assolutamente sbagliato, è sbagliata una sicurezza fai da te e sono andato a dir loro che ci siamo. Grazie. Grazie. Grazie.